E salve il reparto di neurologia della clinica Santa Barbara e quanto è stato stabilito ieri nel corso di un incontro all'assessorato alla salute al quale erano presenti l'assessore regionale Ruggero Razza, il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta Carmelo Iacono, i rappresentanti della clinica, dell'amministrazione comunale, i deputati regionali Giuseppe Arancio e Nuccio Di Paola. Il reparto dunque non chiuderà almeno fino all'apertura di quello previsto al Vittorio Emanuele, una battaglia che è stata sostenuta da rappresentanti di diversi schieramenti politici. La salvaguardia di quei dieci posti letto, scrive il forzista Michele Mancuso in una nota, numero che potrebbe apparire esiguo e in realtà rappresenta il primo passo per intraprendere la strada voluta dal governo regionale di elevare il livello della sanità, di dimostrare concretamente che è finito il tempo delle parole ed è iniziato quello dei fatti. Parole di soddisfazione sono quelle espresse anche dal deputato 5 Stelle Nuccio Di Paola. Gela è tutto il comprensorio sud della provincia, non può permettersi di perdere un ulteriore servizio sanitario. Nel piano di riorganizzazione ospedaliero previsto dal passato governo regionale, all'interno dell'ospedale Vittorio Emanuele dovrebbe nascere un reparto di neurologia. La richiesta però è stata che nel frattempo che questo reparto effettivamente vada a regime, quindi ci siano i posti letto, ci siano i medici, in questo frattempo probabilmente passeranno anche degli anni, il reparto di neurologia e quindi il servizio di neurologia all'interno della clinica Santa Barbara deve continuare ad esistere. All'interno del tavolo tecnico tutte le parti sono state concorde, l'assessore ha dato la disponibilità ad accogliere questa proposta, che ovviamente è una proposta ponte per far sì che Gelo appunto non perda questo servizio. Ognuno con la sua parte, noi come Movimento 5 Stelle monitoreremo, oltre a fare la proposta continueremo a monitorare che poi dalle parole si passi ai fatti e quindi che l'assessore poi attui quanto detto all'interno del tavolo tecnico di ieri. Spero che entro la prossima settimana o comunque entro fine mese anche gli accorgimenti tecnici siano a posto e quindi che la neurologia all'interno della clinica Santa Barbara rimarrà aperta, continuerà a funzionare fino a quando all'interno dell'ospedale Vittorio Emanuele il reparto di neurologia non entrerà a regime.